Siamo con il sindaco di Guardia Grele, Simone Dal Pozzo, per parlare dell'estate guardiese, un'estate iniziata alla grande a Guardia Grele e tanti eventi che proseguiranno fino agli inizi di settembre. Si tratta di eventi un po' per tutti i gusti, io ne voglio individuare alcuni, quelli più importanti che si aggiungono alla tradizione, come ad esempio la mostra dell'artigianato, che sarà presentata in un'occasione a parte, ci saranno innanzitutto la festa del borgo il 29 di luglio, per celebrare il ritorno del comune di Guardia Grele nel club dei borghi più belli d'Italia. Poi ci saranno il 6, 7, 8 agosto le classiche feste patronali, la notte bianca, quest'anno il 14 di agosto con il concerto notturno degli after hour gratuito. Poi il 19, 20 e 21, altra iniziativa inedita che si colloca nel quadro della 46esima edizione della mostra dell'artigianato, e cioè il Festival di Artigianato Digitale. Guardiamo all'innovazione, guardiamo anche alle giovani generazioni. Poi altri appuntamenti con l'opera, con regia di Enzo De Caro, con la direzione di Maurizio Colasanti e di Susanna Rigacci, una serata di teatro di eccellenza con Michele Placido, quindi ci sono degli appuntamenti veramente ricchi. Grazie a tutti.